Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi quante novità sono state inserite nell'ultima patch di Fortnite! Quella di ieri mattina la 11.01 una patch che un po' tutti ci aspettavamo in quanto porta tutte le novità del Fortnite MERS, di Halloween e anche piccolezze che ci fanno un pochettino capire che il team di Epic Games ovviamente è sempre al lavoro per tenerci belli aggiornati con tutta la storyline della season numero 1 capitolo 2 di Fortnite. Nel video di oggi parleremo del tanto atteso ritorno di una delle skin che mi avete chiesto per tantissimo della Ghoul Trooper. Vi do due informazioni, vi dico cosa succede, cosa cambia quando ritorna insomma ragazzi tanta roba molto interessante vedremo anche però un sacco di nuove skin già viste e alcune ancora criptate che arriveranno in tutto l'evento dedicato ad Halloween probabilmente con l'aggiornamento anche del 29 ottobre e ovviamente ragazzi una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Volevo prima però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono in live su Twitch dalle 8 alle 18. Grazie mille ragazzi per la vostra compagnia e grazie anche a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi anche in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima però la domandina ve la devo fare ci tengo ci tengo grazie anche per avermi risposto in tantissimi al commento di ieri proprio qui sotto domanda di oggi a tema di Halloween. Ma qual è lo stile che preferisci dello Skull Trooper? Altra grande skin ritornata ieri nello shop l'aspettavamo sospettavo che tornasse il prima possibile è arrivata ovviamente includiamo anche lo stile viola per lo Skull Trooper a parer mio lo Skull Trooper è lo Skull Trooper classico bella anche la variante bianca non mi è mai fatto non mi è piaciuto tanto quello verde viola e vabbè però classico è classico ditemi il vostro stile preferito qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle vande e non mi parte il coso e vando alle ciance andiamo subito ragazzi a parlare anche della prima novità che è stata modificata in questa patch 11.01 ovvero sia la possibilità di ottenere un sacco di punti esperienza extra durante le nostre partite probabilmente quelli di Epic Games si sono resi conto che era un po' dura riuscire a livellare tutto il pass battaglia per chi ha comprato appunto la versione di base e quindi ci dicono che gli aggiornamenti arrivano in questo modo le medaglie prima davano da 2.000 fino ad arrivare a 4.000 adesso con il nuovo aggiornamento 8.000 di base fino a un massimo di 16.000 credo che 16.000 sia inteso alla medaglia d'oro in poche parole delle varie sfide da fare durante le nostre partite e non è l'unica cosa che è stata modificata anche perché le sfide come ci dicono appena persi you get fifty 100 allora sembrerebbe che si otterranno 52.000 punti esperienza per ogni challenge quindi non più 14.000 qua infatti vediamo proprio la stringa di codice che è stata modificata prima ogni sfida quelle che arriveranno dopo domani o addirittura oggi adesso non ricordo bene il giorno penso penso domani non lo so 14.000 ne daranno invece 52.000 quindi ragazzi assolutamente molto più comodo riuscire a portarsi a casa un pochettino di punti esperienza extra e andiamo avanti con il prossimo argomento sono abbastanza stupito del fatto che non mi fa che mi è crashato fortnite quindi ci rimaniamo a guardare questa bellissima immagine di aura con lo shieldino prossimo argomento ragazzi ovviamente la ghoul trooper non si è capito bene che cosa è successo ma si sa che verrà rilasciata al cento per cento a questo punto io credo che parleremo proprio del giorno di halloween quindi molto probabilmente ghoul trooper in arrivo il 31 ottobre perché nelle mie spalle ci sono alle mie spalle nelle mie spalle no alle mie spalle ci sono tre stili della ghoul trooper perché ragazzi funzionerà in questo modo la ghoul che vedete ovviamente all'estrema destra è quella classica che conosciamo tutti quella acquistabile nel primo fortnite mers del 2017 quella che vedete invece centrale rosa sarà la variante che verrà data a tutti quelli che hanno già acquistato la ghoul trooper mentre questa un pochettino più verde chiaro con i capelli bianca non sarà bianchi non sarà altro che uno stile aggiuntivo per chi compra appunto la ghoul trooper in questo fortnite mers tra l'altro volevo appunto farvi vedere penso che sia questo no ma è questo ragazzi ecco volevo proprio farvi vedere in game la nuova ghoul trooper come si presenta davvero meravigliosa porca miseria porca è ripartito fortnite in tutto questo fantastico succedono i casini sinceramente non mi fa impazzire rosa viola magari rosa no a me non piace cioè nel senso mi piace molto di più la variante con i capelli bianchi e il colore verde zombie veramente gg quindi ragazzi ovviamente se siete possessori di una ghoul trooper che avete acquistato nel 2017 tanta roba perché otterrete anche un paio di stili extra andiamo avanti con il prossimo argomento tutto nero non si sa neanche il perché ma voglio parlarvi della nel nuovo starter pack avevamo visto due o tre giorni fa il video direttamente della skin in game sappiamo che questo starter pack costerà 4,99 euro un po' come tutti consiglio sempre di prendere se ne avete la possibilità gli starter pack perché oltre ad avere una skin un piccone e un backpack esclusivi questo giro pigliate pure 600 vbucks quindi tanta tanta roba perché vale comunque la pena anche solo per i vbucks delle informazioni aggiuntive su questo starter pack è proprio descrizione e nome wave breaker pack wave breaker potrebbe essere interpretato come una cosa che che distrugge quando passa non so se riesco onda d'urto credo che possa essere interpretata come parola in italiano crash trout waves of enemies quindi distruggi orde di nemici con il wave break pack con il pack onda d'urto se becco che è onda d'urto qua ragazzi voglio che me lo ricordate in chat una skin un backpack un piccone e 600 vbucks quindi tanta tanta roba ragazzi per questo nuovo starter pack che appunto si aggiungerà sicuramente alla collezione e andiamo avanti con il prossimo argomento volevo un attimo è darvi due informazioni sulla modifica che è stata fatta alla falce altro grande punto interrogativo di questa di questo fortnight merce uscirà non uscirà bella domanda momentaneamente non sappiamo nulla però sappiamo che è stato modificato il la descrizione prima diceva raccoglie risorse e anime fa parte del set esclusivo milite d'assalto ora non ricordo bene con le erano le frasi hanno tolto la seconda parte e hanno detto solo raccoglie risorse e anime non so bene come possa essere interpretata questa cosa se ritornerà se non ritornerà non ho davvero idea ragazzi speriamo ovviamente per chi non l'ha ricevuto che possa ritornare volevo appunto salutarvi con una bellissima altra carrellata di skin in arrivo meglio le due skin ho tempo di farvi vedere eccole qua ragazzi sono veramente molto questa è bellissima mi piace veramente un casino con la nuova emote il nuovo ballo che palesemente quello di uno zombie e insieme a questa skin che sinceramente non non saprei come si chiama ecco vedi cambia totalmente faccia quando fa dei balletti diversi mi piace anche molto però con la variante zombie che credo sia in attraversamento e abbiamo anche questa nuova skin ragazzi entrambe appunto ancora criptate sebbene ne abbiamo viste alcune che vi ho proposto anche nella pagina instagram ci sono anche queste che sicuramente faranno parte del fortnight mers del set di halloween e di tutto quello che serve per riuscire a fare un halloween di fortnite alla grande io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video mi raccomando iscrivetevi in tanti al canale codice ex iuderone noi siamo in live dalle 8 su twitch ciao e non parte neanche l'altro ciao 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 ciao